Siamo con Matteo Ferrari dell'Honda San Carlo Junior Team, nonché nuovo campione europeo Moto3. Matteo, questa è la moto con cui ad Alba Sete la scorsa settimana hai vinto l'Europeo. Allora, raccontaci un po' com'è andata. L'Europeo è andato veramente bene, il team ha lavorato benissimo e ho avuto un'attività con la mia fondabilità e è stata davvero una bella soddisfazione lottare con i piloti spagnoli che hanno fatto anche qualche wildcard al mondiale, hanno fatto molte esperienze quindi è stato davvero duro. Siamo molto contenti, adesso si occupava le lunghe, siamo arrivati ieri con un po' di piogge però siamo arrivati convinti di vincere e ci proveremo sicuramente. La seconda parte di prova è il secondo turno di qualifico sabato, è stato un po' simuloso perché ha voluto molto e si stava asciugando adesso la pista e il team veramente non voleva far piacere in pista però dai, gli ho convinti e sono entrato, sono riuscito a fare il peggior tempo delle Moto3 quindi dai, è stato anche giusto entrare e vai, stiamo lavorando bene e vediamo come andrà la gara domani. Perfetto, direi che comunque è stato un anno eccezionale, ha accumulato un sacco di esperienze ricordiamo che hai fatto anche la gara di Misano del Cib, quest'anno hai fatto tutto il Cib e alla gara di Misano c'erano molte wildcard mondiali quindi le hai ritrovate lì, le hai ritrovate all'europeo e sei riuscito comunque a battere tutti in casa degli spagnoli, veramente complimenti e speriamo che il futuro della moto sia sempre di più italiano. Complimenti in bocca al lupo! Grazie!